Pio Pisicchio, lei prima parlava di disarticolare il bipolarismo che alla fine ha portato, secondo la versione del terzo polo, all'ingovernabilità del Paese, ma voi alla fine con qualcuno vi dovrete schierare, di nuove leggi elettorali diciamo che difficilmente se ne vedranno, quindi o ci sarà il mattarellum con il referendum oppure si va con questa? Ma questa necessità dello schierarsi onestamente non la vedo, a parte che a me hanno molto interessato non tanto le baruffe chiozzotte che venivano estrapolate dalle difficoltà interne dei partiti, che ancora una volta testimoniano la chiusura del ciclo. A me è molto interessato l'analisi che peraltro condivido dei flussi elettorali che faceva prima Crespi, che fotografa una realtà qual è quella che ci viene consegnata da questo diciassettennio. Il Paese è desideroso di trovare un punto, cito, battiato dai tempi buoni, un centro di gravità permanente che eviti il conflitto, 17 anni di conflitto, 17 anni di guerra di trincea, non sono tanti, non sono più sopportabili. E tuttavia questi contenitori così consumati, così al di là della frutta, siamo oltre del sé, insomma c'è una cosa che credo noi tutti dobbiamo accettare. Stiamo vivendo il fallimento della classe dirigente prodotta dal 94. È quello che sta fallendo, è quello il ciclo che si sta chiudendo. Dal 92 forse? No, è eletta nel 94. Ah, è eletta no, è generata dal 92. No, è generata dal 93, dalla legge elettorale effetto del referendum. È generata da mani pulite, dai. Generata dalla legge elettorale, su questo poi possiamo aprire anche un dibattito più articolato. Ma comunque ha mostrato tutti i suoi limiti. È quella classe dirigente che non ha la legittimazione popolare. Non l'ha avuta neanche nei collegi uninominali. Vediamo di capirci una volta per tutte. Concordo, 100%. All'epoca, lo dico agli amici referendari impegnati in questa operazione abbastanza complicata della riuscienza del mattarellum, credo che solo il regista Romero nella notte dei morti viventi sia riuscito a fare una cosa analoga, i collegi venivano scelti, selezionati ed assegnati all'interno di coalizioni sulla base di diktat di coalizione, non più di partito. Per cui accadeva che un signore, straordinariamente Charman, un grande avvocato d'affari internazionale con cappotto di Kashmir, andasse in collegi popolari in Campania e si lamentasse che il freddo era tale per cui manco Agestad trovava una temperatura così e veniva eletto con il voto di rifondazione comunista, avendo una impostazione del tutto diversa. Oppure Tabaccia è eletto da noi che votiva la Lega? Questo è ossimorico. Allora, il punto qual è? Superare questa insopportabile condizione di spaccato. Perché è vero, è vero quello che diceva Crespi, l'elettorato che si muove da destra non ha uno sbocco a sinistra e evidentemente trova uno spazio intermedio rappresentato dal terzo polo. Cosa fa un sistema che si fa carico del futuro della stagione successiva? Rifà le regole del gioco. Voglio dire, i partiti alla Costituente non volevano dare i partiti democratici, nessuno voleva dare vantaggio agli altri a chiusura del ciclo del fascismo. Si accordarono su una legge elettorale che era legge proporzionale, figlia della stagione dei partiti di massa e fecero partire un nuovo momento di grande democrazia. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Se questo non viene fatto, se la ragionevolezza non interviene nel consentire, io credo ancora che ci sia un passaggio, un pertugio, una possibilità per riformare la terzo polo andrà da solo. Se verrà dopo in Parlamento. Voglio vedere che cosa succede dopo. Se voi puntate a un pareggio, sostanzialmente... Noi puntiamo ad affermare la nostra soggettività politica. Poi vedremo che è una centralità. Intanto bisogna vedere che cosa succede con... Non credo proprio che il referendum possa essere accolto. Ci sono autorevolissimi voci che vanno in questa direzione. Io a Pisicchio volevo chiedere, visto che dell'area del terzo polo, quindi, avevate un quasi accordo con la maggioranza, questo è saltato sulle intercettazioni. La buongiorno si è dimessa da releatrice. La maggioranza chiede che si dimetta anche da Presidente della Commissione di Giustizia. Francamente mi sembra una cosa del tutto bislacca questa richiesta delle dimissioni dal Presidente della Commissione. Non l'ha votata mica solo la maggioranza. La Commissione è un'istituzione e lavora con un percorso che risponde alla dimensione istituzionale. Era relatrice di un provvedimento e è accaduto molto spesso che la non condivisione poi portasse il relatore del provvedimento a dimettersi. Ma perché la maggioranza ha voluto fare questa forzatura? Bisogna domandare alla maggioranza. In realtà noi avevamo fatto una dichiarazione. Veda, il testo su cui la buongiorno aveva lavorato per due anni e mezzo, negoziando, costruendo, era il punto d'equilibrio più vicino ad un'idea all'interno della quale il diritto alla privacy. Perché noi non possiamo non mettere nel conto che c'è una dimensione veramente di esposizione all'udibrio di persone incolpevoli. Si è detto con molta franchezza. Il diritto alla privacy è costituzionalmente tutelato. Il diritto dei cittadini a vedere la magistratura che prosegue per i suoi percorsi d'indagine su reati molto molto seri e il diritto all'informazione su cui si basa l'intera impaccatura democratica tutti e tre venivano tutelati. Nel momento nel quale con una scelta che la maggioranza ha compiuto si è ristretto fino a vanificarlo, poi non abbiamo tempo ma sarebbe anche il caso di spiegare che cos'è questa restrizione. Il diritto tutelato dall'articolo 22 della Costituzione è evidente che non ci siamo più riconosciuti in quel testo.